L'interpretazione è stata dal punto di vista tecnologico di tutti gli strumenti, le strategie, gli espedienti, i trucchetti, eccetera. Che ne pensate? Va bene così? Secondo me va benissimo. Io prima che tu parta con questo pezzettino di lezione qua, dico un'ulteriore cosa, diciamo, teorica, che mi sono dimenticata dalla parte iniziale, che però può essere utile. Allora, abbiamo detto che il podcast è un'informazione, anzi non l'ho detto ma ve lo dico ora, il podcast è un'informazione verticale. Che cosa significa questo? Che mentre Letizia dice che in altre lezioni, in altre occasioni si è fatto un mini coffee break. Allora facciamo così, dico questa cosa che dura tre minuti e poi facciamo un piccolo break e riprende Angelo. Vi dicevo, noi siamo abituati a un'informazione, veniamo da un'informazione generalista, pensiamo sempre al quotidiano, che all'interno delle sue pagine ha politica interna, esteri, sport, cultura, cronaca. Quindi sfogliando un quotidiano voi avete una panoramica di tutto quello che più o meno è successo in Italia e nel mondo, in tutti i settori. Quindi appunto anche lo sport, anche la cultura, anche gli spettacoli, eccetera, eccetera. Abbiamo detto però che sempre di più le persone faticano ad avere tempo per informarsi su tutto. Allora l'informazione oggi sta andando in una direzione sempre più verticale, e cioè io non ti do tutto, ma ti do una cosa che ti interessa. Che cosa significa questo? Significa che nel caso di rimbalzi, per esempio, i ascoltatori di rimbalzi sono tendenzialmente persone che leggerebbero la pagina di sport del giornale, quindi sono nicchie verticali, si va per nicchie di interesse, per cui è difficile che un appassionato di politica estera ascolti i rimbalzi, però allo stesso tempo chi ascolta rimbalzi, e questo esempio chiaramente lo faccio, come dire, lo possiamo riportare su tutte le altre tematiche, tutte le altre materie, chi ascolta rimbalzi è molto probabilmente, sicuramente, un ascoltatore appassionato o interessato a quell'argomento. Quindi questa cosa, la sua esigenza di saperne di più di quella materia, o il suo interesse di saperne di più di quella materia, quindi per bisogno o per passione, contribuiscono a creare quel legame di fidelizzazione di cui parlavamo prima. Cioè è più facile creare comunità, community come si dice oggi, verticali, legate alla condivisione di una passione o di un interesse. Per cui questo funzionamento qui vale in generale quasi per tutti i podcast. Tutti i podcast sono podcast, abbiamo detto, di approfondimento, e quindi non generalisti, ma tematici. Io voglio approfondire gli esteri, ascolto un podcast di esteri. Voglio approfondire la politica interna, ascolto un podcast di politica. Voglio approfondire lo sport, ascolto un podcast di sport. Questo fa sì che appunto gli ascoltatori magari numericamente non siano tantissimi, tantissimi ancora oggi in Italia, i podcast non fanno numeri da televisione, chiaramente, ma è un pubblico molto interessante dal punto di vista di chi produce contenuti e dal punto di vista di, per esempio, chi ci fa le pubblicità, perché quel pubblico lì non è un pubblico che si trova lì per caso, cioè che passava di lì. È un pubblico veramente interessato. E quindi la soglia di attenzione che quel pubblico mette nell'ascolto di quel contenuto è molto alta. E se io in questa soglia di attenzione alta ci vado a mettere un contenuto, faccio esempio, pubblicitario, ho molto più ritorno, se sono un investitore pubblicitario, rispetto a mettere uno spot in televisione che passa tra 80.000 altri spot. Quindi questo lo dicevo sia per una questione di business, chiamiamolo così, sia per una questione di nicchie, come vi dicevo prima, quindi di modello. Il podcast è un modello verticale, perché io devo sapere che tutte le settimane, il sabato, esce questo podcast di sport, sono appassionato di sport, per cui diventa la mia routine settimanale, ascoltare quella cosa. E so che non mi deluderà, cioè so che dentro Rimbalsi non troverò una storia che parla di, non lo so, di un'altra cosa. Perché c'è una coerenza narrativa in tutta la serie. E questa è l'altra parola d'ordine, cioè la serialità. Come vi ho detto, avete ascoltato una puntata di Rimbalsi, ce ne sono tantissime altre, forse già siamo a più di 30, mi sembra. Sì. E quindi appunto ogni puntata è una storia a sé, ogni puntata è costruita narrativamente in maniera diversa. Prima leggevo la domanda di Emanuela, che dice come si impara a costruire una storia così. Ovviamente non è che sono costruite tutte uguali, non c'è uno stampino, poi Angelo ci racconterà appunto come si costruiscono, ma non c'è una ricetta, un modello, perché quello che comanda è la storia. Cioè quello che comanda è sempre il contenuto. Però quindi ogni storia imporrà ad Angelo di trovare la chiave per raccontarla, ma tutte le storie insieme hanno un filo conduttore coerente e quindi l'ascoltatore non si troverà mai spiazzato. Ogni settimana può andare sul sicuro, sapendo che sul rimbalzi troverà qualcosa di affine ai suoi interessi. E questo crea appunto quella fidelizzazione che per chi produce podcast è fondamentale, perché il podcast non è mai una storia, una puntata, è sempre una serie. E allora, se Angelo non volevi aggiungere niente su questo, io gli concederei la pausa di dieci minuti, sono le 11.50. Ci prendiamo, ok, dieci. Facciamo alle 12, così facciamo dalle 12 all'1.30 la parte tua. Come si sceglie. Esatto, esatto. Va bene. Silenzio e senso, quindi a tra poco. Grazie. Grazie.